Piemonte Next Generation. Sono circa 3.000 i progetti che la Regione presenterà a Roma appena saranno indicate le modalità di ingaggio per un totale di 34 miliardi di euro di investimenti provenienti dal Recovery Plan, progetti selezionati soprattutto tra quelli provenienti dal territorio. Questi i numeri annunciati in apertura del Consiglio straordinario convocato sul tema Piemonte Next Generation dal Presidente della Regione Alberto Cirio. Noi adesso abbiamo ultimato la fase 1 che è il censimento di tutti i progetti, le idee progettuali che servono al Piemonte che abbiamo raccolto dai sindaci, dalle istituzioni locali. Conclusa questa fase parte la fase 2 cioè andare a prendere di questi progetti quelli che sono davvero determinanti per far ripartire la nostra Regione. Sui sei assi di intervento delle recovery, digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca e salute sono intervenuti gli assessori regionali all'ambiente Matteo Marnati, al bilancio Andrea Tronzano, alla sanità Luigi Icardi, all'agricoltura Marco Protopapa, ai trasporti Marco Gabusi e all'istruzione, lavoro e formazione professionale Elena Chiorino. Il dibattito è proseguito in aula con gli interventi di molti consiglieri di maggioranza e opposizione. Credo che il Piemonte con l'utilizzo delle risorse provenienti dal Next Generation debba affrontare tre temi importantissimi. Il tema della bioeconomia circolare, il tema fondamentale della white economy, quindi economia della cura, il tema della information technology perché il Piemonte si presta a essere capitale di questa fondamentale costruzione del futuro. Ci aspettavamo una visione da parte della Giunta, quale fosse la razio dietro questa selezione di progetti, in realtà non c'è stata nessuna soluzione e non c'è nemmeno nessuna razio, quindi vediamo la ripartenza della nostra regione molto difficile e soprattutto in nessun modo legata a questo documento. Tra i capigruppo sono intervenuti anche Alberto Preioni, Lega, che ha elogiato il censimento presentato dalla Giunta, espressione della volontà dei sindaci e dei territori. Per Raffaele Gallo, Partito Democratico, la regione avrebbe dovuto definire priorità e non limitarsi a raccogliere i progetti degli enti locali. Secondo Paolo Ruzzo, la Forza Italia, il censimento dei progetti segnalati dai territori è la base per costruire i futuri bandi europei. La Giunta propone solo un elenco di progetti e idee che stavamo già realizzando prima, ha dichiarato Shunsacco, Movimento 5 Stelle. Per Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, i 3.000 progetti rappresentano un'occasione straordinaria per recuperare il terreno perduto. Secondo Silvio Magliano, moderati, occorre impiegare le risorse in riforme strutturali. Gli investimenti per il domani non bastano se servono solo a rifare gli stessi errori, ha dichiarato Marco Grimaldi, liberi uguali verdi. Per Mario Giacone e Monviso non c'è una vera programmazione che guardi al futuro.